La seduta del 19 giugno Seduta straordinaria sui tagli alle linee ferroviarie Impegni del Consiglio contro il gioco d'azzardo Sette giorni in Consiglio Nella seduta del 19 giugno, dopo la discussione e la votazione di alcuni emendamenti al testo sulla proposta di legge per la lingua dei segni, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità L'ordine del giorno, primo firmatario Paolo Tiramani-Lega Nord, per celebrare l'orgoglio del calcio piemontese e raccogliere fondi per i terremotati dell'Emilia L'idea è promuovere un quadrangolare con Juventus, Torino, Provercelli e Novara da disputare alla fine di agosto Al pomeriggio l'Assemblea ha svolto la sessione straordinaria sui tagli alle linee ferroviarie piemontesi Grazie 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 Grazie